Panseri adesso è il momento di Razzoli, avete visto lo striscione dei suoi tifosi, forza Giuliano, 26 centesimi di vantaggio, 59 da recuperarne a Kostelic, forza Giuliano è partito bene, lui ha sbagliato niente e adesso sta scegliendo anche forte qua, sta scegliendo anche forte, adesso prepara il cambio di pendenza al meglio direi dai 29, impeccabile per adesso, ha cambiato marcia qui di nuovo, pensa che lui fa fatica a cambermarcia rispetto a Mörglie, invece lo sta facendo perfettamente, dai Giuliano forza Giuliano, si avvicina al secondo intertempo, bene anche questi passaggi si è veloce ancora qui perché il rischio è stato un fulmine in questa parte centrale, ancora davanti 17 centesimi, dai forza adesso bolle, ha il coraggio di bollarli in questa quadrupa perché l'ha tracciata per te, bolla lì via, scarica sul terreno la tua potenza bene, bene, non velocissimo però bene, attenzione al dosso troppo come Deville, troppo come Deville, vediamo un po', 1,41 e 83 davanti, 21 centesimi ha addirittura guadagnato 4 centesimi, eccolo esultare, beh Paolo guarda che ha frenato due porte prima del dosso, quindi poteva essere ancora davanti ma per adesso siamo là per adesso, per adesso, allora, Razzoli è al comando, Razzoli, Hirscher, Argin, Matt, Deville grazie a tutti